Musica Bentrovati ad ora a Tg, la tragedia dei cani killer a Mascaluccia, interrogata in procura Stefania Crisafulli, la mamma del piccolo Giorgio, la donna conferma, lo tenevo in braccio e ho fatto il possibile. Daniela Cantarella ha sentito il suo legale. La donna è stata tramutata in abbandono di minore. È stata sentita ieri dal sostituto procuratore di Catania, Fabrizio Liotta. Accompagnata dal marito in presenza del suo legale, l'avvocato Fabio Cantarella, la donna ha ribadito che il suo piccolo non era solo al momento dell'aggressione, ma che lo teneva in braccio, quando improvvisamente, senza motivo apparente, uno dei cani, l'unico libero in giardino, lo ha aggredito cercando di strapparglielo dalle mani. Mi devo dire che ha risposto a tutte le domande in modo esaustivo, ha chiarito tutti i passaggi che il PM aveva messo in evidenza. Siamo sereni. Naturalmente la madre ha confermato che era in giardino col bambino sin dall'inizio, sin dal primo morso che il cane ha dato. Ha raccontato quei pochi minuti in cui è nata questa contesa fra lei e l'animale per cercare di sottrargli il bambino mentre lui lo ritoglieva. Una lotta che è durata alcuni minuti e che lei dice essere durata un'eternità, naturalmente. È normale che sia così. Aspettiamo. A smentire la versione che accusa la donna di aver lasciato solo con i cani il bambino mentre lei stava in casa, afferma l'avvocato Cantarella, sarebbero anche le notevoli ferite riportate dalla Crisa Fulli, provocate dal feroce combattimento tra il dogo argentino e la donna nel tentativo disperato e inutile purtroppo di strappargli il bimbo. La mia sisida quel giorno scappò via dall'ospedale e quindi puntualmente la procura invece l'ha fatta refertare in modo da documentare diversi morsi che anche lei ha addosso e le varie scoriazioni importanti perché l'animale l'ha trascinata in terra durante la lotta e quindi lei oltre ai morsi addosso ha anche importanti scoriazioni sotto le ginocchia, sotto i gomiti. Quindi tutti i segnali che testimoniano che la signora era lì dall'inizio e ha lottato per frappare il piccolo alla feroce dell'animale. Come si spiega lei questa reazione? Non se la spiega perché non c'è stato un motivo che l'ha scatenata. L'animale all'improvviso senza dare il primo segnale, il minimo segnale ha zannato il piccolo. È un animale che non aveva mai dato il minimo segnale. Non c'erano già stati episodi? Assolutamente, non ha mai ringhiato, il piccolo gli metteva le mani in bocca, gli dava da mangiare, gli saliva addosso. C'erano due fratelli come mi hanno raccontato i familiari. E adesso cosa ne sarà di questi cani? Questo non spetta a noi deciderlo. I cani continuano a essere ricoverati presso il canile di Mascaluccia convenzionato col comune. I primi dieci giorni erano dedicati alla profilassia antirabbica che fortunatamente non ha dato esiti positivi. E quindi so che adesso l'ASP veterinaria, incaricata dal magistrato, sta in qualche modo redigendo delle relazioni per capire il grado di pericolosità. Sono delle relazioni che si fanno, lo sanno loro meglio di noi, dovranno valutare se sono cani che sono recuperabili, risocializzabili. Non so dirle questo, però poi alla fine tutto questo finirà sul tavolo del giudice che dovrà decidere, non spetta a noi. Ed ora la questione sicurezza a Catania, dove la cerimonia d'apertura del nuovo anno scolastico si terrà al Livio Tempesta, presa di mira dai vandali. Lo ha annunciato stamane Enzo Bianco ai nostri microfoni. Chiesta intanto la riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Filippo Romeo Inaugureranno l'anno scolastico nel quartiere di San Cristoforo. Quest'anno il sindaco di Catania Enzo Bianco e l'assessore alla pubblica istruzione Valentina Scalfa. Con loro lunedì mattina ci sarà anche il questore Marcello Cardona. L'istituto scelto non a caso è il comprensivo Livio Tempesta di via Gramignani. Questa scuola infatti nei giorni scorsi è stata nuovamente devastata dai vandali. Era già accaduto in passato, messi a suo quadro aule e corridoi, ma anche imbrattati di colore i banchi e scardinati gli armadietti, risistemato tutto l'amministrazione comunale e la scelta come simbolo della lotta alla piaga del vandalismo, annuncia il pugno duro il primo cittadino che in una lettera inviata al prefetto Maria Guia Federico ha chiesto di affrontare quella che considera una vera e propria piaga sociale al prossimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. È una cosa vergognosa e inaccettabile e non dobbiamo sottolineare l'impatto intimidatorio che ha questa azione di vera e propria criminalità. Ho chiesto innanzitutto al prefetto di Catania, sempre molto attenta e sensibile su queste tematiche, di mettere all'ordine del giorno nel prossimo Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza questo tema delle azioni vandaliche nei confronti delle scuole catanesi. Dobbiamo capire da dove vengono, dobbiamo intensificare le azioni di vigilanza, dobbiamo individuare chi sono questi criminali e colpirli come essi meritano. E successivamente insieme a questo ho voluto anche un altro segnale. Lunedì l'apertura dell'anno scolastico simbolicamente con l'assessore Schalfa la farò proprio alla tempesta e insieme con me verrà il questore di Catania per dire che lo Stato è in prima linea per difendere le scuole e i ragazzi catanesi contro questi pazzi criminali che meritano soltanto di essere presi a calci nel sedere. Era Pina ieri pomeriggio alle posse di Corso Sicilia a Catania nel centro ad allertare gli uomini della squadra mobile è stata la segnalazione appunto giunta in questura. grazie alla descrizione fornita agli agenti. Il malvivente è stato poi identificato, si tratta di Giovanni Ragusa, 45 anni, lo vedete in foto, è stato arrestato dopo che si era allontanato a piedi per i vicoli della Ferroluni, la zona del mercato. Fermato e perquisito, Ragusa aveva un mazzo di banconote sgualcite e nascoste negli slip, 280 euro circa, il piccolo bottino. Ragusa oltre ad aver ammesso di essere stato l'autore della rapina è stato incastrato dal servizio di videosorveglianza installato all'ufficio postale. E polemiche per la decisione di annullare la partita del Catania di domenica sera per la presenza del premier Renzi in città. Nessuno vuole la paternità di questa decisione. Botte risposta intanto tra il sindaco e la Lega Pro. Sentiamo Francesco Larosa. Scoppia fragorosamente la polemica in riferimento al rinvio della partita di calcio di Lega Pro tra Catania e Fondi, che si sarebbe dovuta giocare domenica pomeriggio allo stadio Massimino e che invece, come è noto, è stata rinviata al 28 settembre prossimo a causa della visita nella capoluogo etneo di Matteo Renzi in occasione della giornata conclusiva della festa dell'unità in corso di svolgimento alla Villa Bellini. Il sindaco di Catania, Enzo Bianco, infatti, ha affermato come la Lega sapesse da tempo che ci sarebbe stata la festa dell'EPD, ma che non si è voluta trovare una soluzione. Affermazioni precise e dirette. Così come l'erano state qualche giorno dietro anche quelle del direttore generale della calcio Catania, Pietro Lomonaco, che aveva addirittura parlato di campionato falsato e di rinvio incomprensibile. Era arrivata successivamente anche una nota dell'eurodeputato Salvo Pogliese. Puntuale in risposta all'affermazione di Enzo Bianco, è arrivata rapidamente la replica del presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, che ha sottolineato in una nota come le dichiarazioni del primo cittadino etneo siano non corrispondenti al vero perché l'organismo sportivo non sapeva nulla e la Lega Pro non può certo fare l'accensimento di tutte le feste dell'unità prima di stilare il calendario degli incontri dell'intera stagione calcistica. Gravina afferma inoltre che esistono i documenti ufficiali che attestano la realtà dei fatti e che il rinvio si è reso necessario non appena è stata notificata la richiesta della prefettura di Catani di rinviare la gara per motivi di ordine pubblico. Insomma, siamo in piena polemica aperta e al di là di tutto ciò resta il fatto che la formazione rossa-azzurra dovrà restare ferma al palo per dieci giorni e disputare poi consecutivamente tre partite nel campo esterno, considerata la trasferta a Reggio Calabria e quella successiva a Matera quattro giorni più tardi. Probabilmente l'intera vicenda è stata gestita male sin dalle fasi iniziali. In estremessi infatti si sarebbe potuto pensare di programmare le match in anticipo al sabato o addirittura anche alla venerdì, così come è già capitato, in altri gironi nella Lega Pro. E apprezzo il metodo di lavoro della città di Catania, lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti, dopo aver partecipato nel Palazzo degli Elefanti ad una seduta straordinaria della Giunta Municipale convocata dal Sindaco Enzo Bianco per fare il punto della situazione del patto per Catania attraverso il quale sono stati assegnati alla città finanziamenti per 740 milioni di euro compreso il PON Metro, nel corso della riunione alla quale oltre agli assessori e al segretario il direttore generale Antonella Liotta hanno preso parte anche tutti i dirigenti e funzionari del Comune e si è parlato anche della situazione del rischio sismico a Catania, le opere per le quali esiste già il progetto esecutivo e che dunque possono essere subito appaltate ammontano a 140 milioni di euro, tra queste ci sono anche gli interventi per la riqualificazione della zona industriale di Catania per appunto 11 milioni di euro E a proposito di rischio sismico, pochi edifici scolastici sicuri in Sicilia e appunto in provincia di Catania da Cireale abbiamo fatto il punto con l'assessore Nando Ardita Il Comune di Cireale ha nel proprio patrimonio immobiliare 32 pressi scolastici escluse dal conteggio alle scuole superiori che sono di competenza della provincia regionale di Catania Si tratta in prevalenza di strutture realizzate in epoche diverse quando le norme antisismiche erano legate alla sensibilità degli amministratori locali e non alle leggi che via via sono state adottate dal legislatore nazionale per scongiurare il crollo delle scuole in caso di terremoto tema che si ripropone ad ogni evento tellurico La situazione città è in chiaro scuro, solo due gli istituti a norma la Vigo Fuccio La Spina e la sede centrale della Giovanni XXIII nella frazione 10 Platani quest'ultimo oggetto di ristrutturazione con la copertura del tetto i cui lavori sono iniziati in estate e si dovrebbero concludere a breve A rischio invece le sedi periferiche che in caso di eventi sismici potrebbero essere seriamente danneggiati trattandosi di strutture edificate in alcuni casi addirittura durante il ventennio fascista non stanno meglio i tre asili nido comunali nonostante le opere di ammodernamento Per adeguare gli edifici ci vogliono corposi finanziamenti che non ci sono e dallo Stato arrivano solo pressanti richieste di adeguamento ma nessuna somma a copertura delle criticità più evidenti L'amministrazione comunale però non è rimasta con le mani in mano ed ha partecipato a bandi nazionali ottenendo i primi finanziamenti per effettuare indagini strutturali almeno nei pressi più vecchi Lo Stato ha trasferito le somme necessarie per opere di ispezione sulla tenuta dei pressi della frazione di Cilichenti la recinta di via Galvani in centro città e la scuola elementare della frazione di Balatelle Si tratta di attività propeteutica alla richiesta di finanziamenti per l'adeguamento alle norme antisismiche a tutela della popolazione scolastica Avremmo voluto sentire e parlare dall'assessore alla pubblica istruzione delle danne ma non siamo riusciti a contattare Nando Ardita, assessore ai lavori pubblici, si dice comunque ottimista per il futuro Abbiamo già utilizzato quelli che erano i fondi stanziati dal Ministero per richiedere una verifica strutturale di tutti i solai delle nostre scuole dei nostri 32 plessi scolastici Già abbiamo avuto il primo finanziamento e già entro ottobre inizierà questa verifica per tre istituti della nostra città Successivamente, perché abbiamo partecipato proprio a questo bando per la verifica di tutti gli istituti continueremo con la verifica con le altre 32 strutture che ci sono nel nostro territorio E torniamo alla cronaca Dello stesso gruppo mafioso Dunque l'arresto per inosservanza Gli obblighi imposti appunto dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza E adesso la cultura è pronto per la riapertura Il Teatro Greco-Romano di Catania Dopo i tanti rinvii in scena la norma di Bellini dal prossimo 24 settembre Riapre a Catania il Teatro Greco-Romano Il 23 settembre alle 21 lo straordinario sito di Via Vittorio Emanuele ospiterà norma di Vincenzo Bellini È stato completato il progetto di valorizzazione promosso da Regione Assessorate al Turismo e Spettacolo e Beni Culturali Comune e Teatro Massimo Bellini I lavori finanziati anche da Taorminarte sono stati eseguiti lo scorso mese di agosto e sono stati gestiti dal Polo Regionale di Catania per i siti culturali che ne ha definito il progetto L'appalto invece è stato gestito dal Teatro Bellini che ne ha curato anche l'aspetto finanziario ed ha messo a disposizione le maestranze Una tre giorni a partire proprio dalla data del 180esimo anniversario della morte del Cigno Catanese inaugurerà la riapertura del teatro Il capolavoro belliniano con la regia di Gian Domenico Baccari sarà messo in scena fino al 25 settembre con prezzi popolari per gli spettatori da 15 a 25 euro Stamani sulle pedane allestite nell'ambito del progetto di valorizzazione si è tenuta la conferenza stampa Presenti il sovrintendente del Bellini Roberto Grossi il direttore del Polo Regionale per i siti culturali di Catania Maria Costanza Lentini il direttore artistico Francesco Nicolosi il sindaco Enzo Bianco e l'assessore regionale Anthony Barbagallo Siamo veramente orgogliosi dopo tanti anni intanto definiamo una stagione estiva qua al Teatro Greco-Romano lo scenario dietro le mie spalle è già eloquente e abbiamo motivi di orgoglio profondo perché veramente siamo riusciti a far ripartire una stagione artistica qua al Teatro Greco con una novità importante intanto si fa Norma con un soprano siciliano come già avvenuto contraviata a Taormina Norma sarà interpretata da Daniela Schillaci che è un giovanissimo soprano siciliano e quindi credo che è un segnale importante che le parti più importanti vengono affidate a giovani artisti siciliani come abbiamo più volte richiesto come assessorato un altro aspetto importante è che ci sono tutte le condizioni per definire una stagione continuativa qua al Teatro Greco-Romano siamo in condizione di definirla entro la fine dell'anno per tutto il 2017 una stagione che parta da fine aprile e arrivi fino a novembre utilizzando i mesi più caldi e quindi la possibilità di godere di questo spettacolo all'aperto e per il trasporto pubblico locale a Catania ha revocato lo sciopero l'organizzazione sindacale Fast Confusal ha comunicato la revoca dello sciopero locale MT di 24 ore proclamato per il 13 settembre prossimo quindi disagi scongiurati almeno per quella data in cui il servizio di trasporto pubblico urbano si svolgerà regolarmente senza ulteriori disagi per gli utenti che potranno utilizzare normalmente le vetture in funzione e adesso invece l'artigianato con la fiera dello Ionio di Acireale ieri l'inaugurazione qualità e valorizzazione del centro storico appunto le caratteristiche di questa edizione Salvo Cutuli la fiera dello Ionio ha rianimato il centro storico di Acireale riportato in città arti, mestieri ed eccellenze di Sicilia da ieri e fino al prossimo 12 settembre è possibile conoscere e apprezzare la produzione dell'artigianato agroalimentare arte e per chi vorrà visitare anche l'area Ford il tutto distribuito su 120 box dislocati tra piazza Duomo Corso Umberto, Corso Savoia e nel quartiere della pescheria la fiera cambia volto e si rinnova rispetto al passato con un ufficio che si occuperà tutto l'anno delle future esposizioni promosse anche attraverso un sito internet ma sempre all'insegna del Made in Sicily ieri pomeriggio inaugurazione con tanto di taglio del nastro per quella che gli organizzatori definiscono l'edizione zero e si spera anche di rilancio definitivo dell'iniziativa che affonda le sue radici agli inizi del Novecento quando si chiamava Fiera Franca e promuoveva il baratto di merci il taglio netto col passato si coglie subito niente ai venditori di prodotti industriali o cineserie come avveniva nelle scorse edizioni e dal prossimo anno si pensa di spostare la fiera in luglio le premesse per rilanciare la manifestazione ci sono la nuova edizione della fiera piace e raccoglie consensi tra le novità segnaliamo laboratori del gusto presso il Palazzo del Turismo convegni e workshop su cibi biologici e il Limone dell'Etna sulla via dell'IGP e soprattutto è bello avere riportato la fiera al centro una fiera assolutamente di qualità anche rispetto agli scorsi anni 120 stand tutto agroalimentare e artigianato e la fiera dello Ionio 2.0 nel senso che sta ripartendo e stiamo riprendendo il vecchio format si muove sulle aree dell'entusiasmo Antonio Coniglio, presidente del CDA della Fondazione del Carnevale ed organizzatore della fiera dello Ionio su mandato dell'amministrazione comunale credo che saranno 5 giorni all'insegno dell'animazione, del divertimento e la capacità di questa città di recuperare un'identità che aveva perduto e anche un senso di eleganza di dignità che era parte integrante che continua ad esserlo perché quando il gene è elegante anche se si perde per un certo periodo la via poi si può recuperare la nuova fiera dello Ionio ha ottenuto il applauso del parlamentare regionale Nicola D'Agostino ieri presente al taglio del nastro inaugurale questa è una manifestazione che ora è più consona alla stessa Cireale intanto si è puntata sulla qualità quindi selezione di quelli che sono in questo senso gli espositori e i commercianti e i produttori dell'agroalimentare e dell'artigianato quindi qualità in pieno centro storico per valorizzare la città e per valorizzare nel migliore dei modi la qualità che il nostro territorio esprime l'obiettivo è quello di raddoppiare l'anno prossimo di farla in un periodo diverso di fare in modo che ci siano molti più sentisti quest'anno esperimentali anche per capire quali sono le problematiche che ovviamente all'interno del centro storico sono tante perché c'è da gestire tante situazioni ma credo che questo sia come dire la vera fortuna di questa città e di questa iniziativa se in questo connubio riescono a esaltare le bellezze le potenzialità del centro storico di Cireale ma soprattutto attraverso le eccellenze della Sicilia quindi della produzione siciliana Adesso c'è lo sport con il calcio Catania annullata lo abbiamo sentito la partita di domenica prossima il Catania si prepara ad affrontare la sfida fuori casa Reggio Calabria Al di là delle polemiche del cambiamento di programmi in Casa Rosso Azzurra si punta dritto alla prossima gara in programma mercoledì prossimo nel turno infrasettimanale a Reggio Calabria la squadra di Rigoli costretta a dieci giorni di stop forzato sarà attesa poi da un vero e proprio tour de force quella contro la Reggina infatti sarà la seconda di tre trasferte consecutive archiviate a Andria infatti dopo il granillo la squadra Rosso Azzurra è attesa sul campo della Matera la domenica successiva ma il gruppo non si scoraggia anche stamattina ha sostenuto un allenamento robusto a Torre del Grifo la Reggina d'altronde sarà impegnata domenica all'esseneto contro l'Agracas e a vedere il bicchiere mezzo pieno l'undice etteneo si presenterà maggiormente riposato alla sfida del granillo dopo il buon avvio di campionato la Catania è chiamato adesso a dare le opportune conferme migliorando soprattutto l'assetto difensivo laddove Rigoli ha lavorato parecchio in settimana il gruppo titolare è già ben individuato con il giusto mix tra vecchi e nuovi dovranno essere soprattutto gli elementi di maggiore esperienza a guidare il più giovane soprattutto sotto il profilo mentale la Reggina prossima avversario è una squadra ripescata che però sul suo campo ha già messo in serie difficoltà il Messina battendo i pallorità nettamente continua a lievitare intanto l'entusiasmo dei tifosi la quota abbonamenti sfiora al momento le 5.000 tessere ma saranno soprattutto i risultati conquistati nelle prossime giornate a convincere ulteriormente la piazza la società peraltro ha prolungato la prossima 27 settembre ultimo per sottoscrivere gli abbonamenti superato il doppio turno esterno la Catania giocherà due volte consecutivamente in casa nello spazio di tre giorni alla Massimino saranno ospiti prima l'Agracass quindi il Fondi il 25 e 28 settembre ed è tutto per questa edizione di ora TG è breve disponibile anche sul sito internet www.reitv.it sulla pagina facebook di Reitv grazie di averci seguiti adesso le previsioni del tempo il meteo è offerto da il centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale vicino la biblioteca Zelantea centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6 incluso il sabato centro analisi SAEM via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale per info 095 60 48 83 venerdì 9 settembre con qualche miglioramento rispetto ai giorni precedenti infatti nuvolosità diffusa su tutta la nostra isola ma con possibili schiarite dappertutto calmi i mari temperature ancora leggermente in calo 20 la minima Catania 28 la massa Meteo è stato offerto da il centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale vicino la biblioteca Zelantea centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6 incluso il sabato centro analisi SAEM via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale per info 095 60 48 83 A Cireale A Cireale Grazie a tutti.